Il convegno di oggi ha dimostrato che Soverea Mannelli si proietta sempre di più da protagonista in un ruolo di buona amministrazione all'interno dei comuni della Calabria. Il già sindaco Mario Caligiuri ha illustrato quest'oggi diverse proposte e diverse cose già realizzate. Soverea Mannelli quindi si inquadra in un contesto politico dove non solo è un orgoglio per i cittadini di questa comunità ma soprattutto è un modello da seguire per i comuni dell'Interlande calabrese. Prende spunto da Soverea Mannelli come principio non negoziabile per dimostrare il buon governo e fare sentire ai cittadini parte di qualcosa più importante che assicura loro, come già fatto qui, sviluppo e lavoro.